Sono in giardino da Cree, sono appena arrivata e sto facendo il video che usa in macchina perché c'è il vicino del mio fidanzato che raccoglie le olive e non voglio farmi beccare ma è lassù e mi prende per pazza se vede che parlo da sola quindi io volevo far vedere il look ovvero sono andata a fare di nuovo il colore e i riccioli tipo Shirley Temple barra bambola di porcellana mi piacciono da morire non so se si vedono bene perché si vedono col fatto che in macchina è buio magari non si vede granché sono carini, vi volevo anche far vedere come mi sono truccata oggi il trucco anche se non si vedono bene i colori l'ho fatto con una palette della Sleek se non sbaglio la Mi My Self and Die ho messo del verdone, del marroncino, del salmone e ho sfumato con del borgogna sulle labbra ho la matita 405 di Kiko con il burro di cacao della Luan Valinea di Essence quello un po' più rossastro niente direi che è tutto l'abbigliamento niente di particolare sono vestita esattamente come ieri vi mando un bacione grande e al prossimo video ciao ragazze